Risveglio a secco stamattina per centinaia di cittadini di Como. Alcuni quartieri della città, interi e isolati, sono rimasti senza acqua dalle prime ore della mattina. I tecnici di ACSM Agam hanno lavorato tutto il giorno per cercare di ripristinare il problema all'acquedotto. Il guasto si è verificato poco prima dell'alba, attorno alle 4, nella zona est della città. L'erogazione dell'acqua è stata sospesa in diverse zone di Como, tra le quali San Martino e l'area tra Via Zezio e Garzola, creando pesanti disagi ai cittadini. Questa mattina, attraverso una nota stampa, ACSM Agam informava che le squadre di tecnici stavano lavorando per ripristinare prima possibile l'erogazione idrica. Nel pomeriggio però il guasto non era stato ancora sistemato e si sono moltiplicate le segnalazioni di cittadini in forte difficoltà, bagni inutilizzabili, caloriferi spenti, impossibilità di lavarsi o di cucinare. Nel tardo pomeriggio i tecnici stavano ancora lavorando per trovare una soluzione al problema.